Oltre 2.200 auricolari e smartwatch contraffatti sono stati sequestrati a Catania dai militari della Guardia di Finanza in un negozio il cui titolare un cinese è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Gli articoli del valore commerciale di circa 14.000 euro sono risultati per foggia e segni distintivi e riproduzioni di prodotti di noti brand come Apple e Samsung. Nel negozio inoltre non c'erano documenti che provavano l'acquisto e la provenienza della merce. Le foto di parte del materiale sequestrato sono state inviate ad una società incaricata di tutelare il marchio Apple sul territorio nazionale che ha poi comunicato la verosimile violazione del marchio di modelli denominati Airpods, Airpods ed Apple Watch. Il sequestro è stato convalidato.